Ed eccoci giunti all'ottava ed ultima La ultima corsa di Palermo, corsa nazionale, un miglio per anziani di minima, favori al gioco per il numero 4 Nume d'Alfa, il momento dello stacco si va adesso ed è proprio Nume d'Alfa che assume il comando, un po' come nelle previsioni, parte molto bene anche Nemesis o M che si profila già deciso su Nume d'Alfa, due peraltro sono legati dal rapporto di allenamento, Dunque sfila in avanti Nemesis o M nei confronti di Nume d'Alfa, più indietro si è sistemato Motoritz in terza posizione, più indietro ancora Ormone dei Fiori con il numero 1 a steccato. I cavalli hanno percorso in 30 ai primi 400 metri con Nemesis o M battistrada su Nume d'Alfa, poi Motoritz, poi Ormone dei Fiori, mentre per linee esterne prova a farsi avanti, dovrebbe trattarsi di Otacione Jet che cerca di farsi avanti per linee esterne. I cavalli imboccano la seconda curva, siamo quasi a metà percorso, metà percorso che viene raggiunto in questo momento in 1 minuto e un paio di decimi, i primi 800 metri, quindi si viaggia sul filo dell'1.15 e qualcosina con Nemesis o M battistrada nei confronti di Nume d'Alfa, Motoritz, Ormone dei Fiori, che adesso sul callo di Otacione Get è alla destra libera e probabilmente sarà spostato all'esterno da Gaspare Loverde. Continua a guidare Nemesis o M, continua a seguirlo come un'ombra Nume d'Alfa, adesso come era logico sposta in seconda corsia a Ormone dei Fiori, ma sbaglia, sbaglia a Ormone dei Fiori, mentre sposta a Nume d'Alfa e va ad impegnare il capofila Nemesis o M, dando l'impressione di poterne avere ragione. Nume d'Alfa dunque entra al comando in rete d'arrivo, la rete d'arrivo però è un po' il suo tallone d'Achille e da allora Salvatore Rosta Junior deve sollecitarlo al massimo perché il traguardo è vicino ma Nume d'Alfa tende un po' a rallentare, però ce la mette tutta Salvatore Rosta Junior e Nume d'Alfa gli dà ragione. Vince dunque Nume d'Alfa dopo quasi due anni di digiuno, 2,62 la quota, Salvatore Rosta Junior in sediolo, il training di Cosimo Cangelosi, la quota come detto 2,62, Nemesis o M ha guidato per quasi tutto il percorso ma è calato nella fase conclusiva e dietro Nume d'Alfa, come adesso andiamo a rivedere, vincitore molto netto sul traguardo, la migliore piazza viene a sorpresa Patrick Halter mentre per il terzo posto sono molto vicini il 6 Motoritz e l'8 Nichtea BLV, probabilmente ce l'ha fatto Motoritz dunque 4 per il primo, 2 per il secondo, 6, 8 in linea.